in questo tutorial vediamo come sommare delle immagini astronomiche ma non di deep sky immagini di asteroidi e di comete e vediamo come poterle elaborare con il programma astap che è un programma gratuito nei commenti lascerò poi l'indirizzo dove il link può essere scaricato come al solito ho già aperto la pagina dove sono salvati i nostri file che sono questi sono 4 5 6 7 file da tre minuti l'uno in questo caso abbiamo un asteroide 532 alcolina li faremo la stessa cosa con un asteroide 30 urania con l'asteroide 60 406 alberto succi e infine la cometa 12 pons brooks ora apriamo astap e nel tasto sommatoria andiamo ad aprire nella alla voce lights con brosa selezioniamo la cartella che ne avevamo selezionato precedentemente quindi clicco come al solito qua sopra copio questo indirizzo ritorno su astap incollo l'indirizzo e quindi ha aperto automaticamente la cartella seleziono i nostri file fits che vediamo magari qua meglio ecco qua così riusciamo a vederli queste qua quindi li seleziono tutti con il mouse e li ha nella linguetta stack method gli dirò lo stack average il resto lo lascio invariato nella linguetta alignment selezionerò non star alignment ma ephemeris alignment in questo modo lui calcolerà per ogni immagine che noi abbiamo caricato le effemeridi degli oggetti presenti e allineerà sull'oggetto e noi selezioneremo l'immagine una sull'altra è più facile a farsi che a dirsi seleziono ephemeris alignment clicco su analyze the selected file in tab lights quindi adesso lui si guarda i file che abbiamo caricato e li analizza uno per uno e deduce che cosa c'è dentro automaticamente l'operazione è completata e qui troviamo un elenco degli oggetti che ha trovato sono in particolare due asteroidi una erculina e l'altro un altro asteroide il 2002 a w2 selezioniamo erculina e clicchiamo su stack average quindi lui farà la somma di quelle immagini tenendo conto del movimento di erculina immagine per immagine quindi avremo le stelle mosse ed erculina ferma questo ci consente di realizzare le immagini di un asteroide debole che con una sola immagine non riusciamo a riprendere ma con la somma di più immagini riusciamo a ottenere un risultato soprattutto se è debole qui ha terminato quindi possiamo chiudere questa pagina e qua dentro abbiamo il risultato elaborato in questo caso abbiamo il file erculina e scusate l'asteroide erculina e l'asteroide 2002 a w2 erculina diciamo è molto luminoso quindi noi l'avremmo visto normalmente anche in un'immagine singola quindi non era necessario per erculina questa funzionalità però in questo caso vediamo che l'allineamento ha funzionato perché tutte le stelle sono allungate tranne erculina che è rimasta ferma quindi richiudiamo a stop poi lo lascio aperto ritorniamo sul sul colzante sigma sui lights ha da notare una cosa che nella cartella erculina dove eramo prima salvati ha creato il file risultante dell'elaborazione che ha fatto che questo quindi il risultato è già salvato come fits se desidero avere un'immagine di questo di questo risultato di andare nel menu file e fare save s e quindi selezionare il formato png bmp autobit jpeg non compresso o molto compresso dare un nome e salvare adesso andiamo ad elaborare un altro asteroide in questo caso più debole che è l'asteroide alberto sushi che è un asteroide di quasi diciannovesima magnitudine qui ho solamente due immagini da 900 secondi l'una vediamo adesso come elaborarle quindi torniamo sul pulsante selezioniamo le immagini che nuova cartella che era alberto sushi che seleziono i due file 1 e 2 questione era già impostato bene stack method alignment è già impostato bene però devo rifare l'analisi perché qui erculina non c'è ma c'è alberto sushi quindi fa l'analisi di due immagini è più veloce e mi fa vedere che cosa ha trovato una cosa un numero spaventoso di asteroidi noi selezioniamo adesso quello che a noi interessa che era alberto sushi e facciamo lo stack di due immagini molto veloce ha finito in quattro secondi quindi chiudiamo questa pagina e quattro diamo l'immagine risultante alberto sushi qui in basso ce l'abbiamo qua hanno alberto sushi in mezzo è un altro e qua riusciamo a vedere appena 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 io se abbassiamo a 2 oppure a 0 si riesce a intravedere con dei pixel leggermente più chiari molto pochi però diciamo è riuscito comunque a darci un risultato di questo tipo qua si può vedere qualcosa proviamo adesso invece a fare la stessa cosa con una cometa quindi torniamo sui lights di seleziono elegancello riprendiamo brosa andiamo sulla cartella questa mi sembra eccola qua dove c'è la cometa 12 pons brooks qui abbiamo molte immagini sono tutte queste le prendo fino qua e sono immagini selezionate torniamo su alignment rifacciamo analyze ha terminato e qui abbiamo solo un oggetto che è la ci metto alcuni secondi finito quindi qua chiudiamo e qui abbiamo la sorpresa che la cometa è allineata quindi vediamo bene la la coda della cometa magari che saltiamo un po l'immagine riusciamo a vederla meglio forse a 2 e qua vediamo il problema attuale che sono satelliti che passano a destra e a sinistra però vedere la le stelle sono mosse quindi ogni fotogramma è sommato al precedente tenendo ferma però la cometa e quindi riusciamo a vedere molto bene la la coda per esempio in questo caso anche qui il file è già salvato quindi lui ci ha già salvato nella pons brooks il file questo il fizz e posso salvare vedete può salvare questa immagine con file save s il scelgo pn jpeg per esempio al 100 per cento e premo salva l'ho già fatto prima e ottengo l'immagine della della cometa salvata che è questa molto semplice bene ci vediamo alla prossima puntata e grazie grazie a tutti grazie a tutti